30 ottobre 2018, martedì, benvenuti su CiperTV, come al solito il riscaldamento nelle storie di Instagram Per quanto ci riguarda invece subito il WOD, oggi un Ciper con 30 box jump, 40 wall ball, 50 kettlebell swing, 1 km di row, 30 swing, 40 wall ball e 30 box jump Pesi, carichi e tutto il resto come al solito nella grafica Ciao a domani